Al via le lezioni del progetto di scrittura creativa dal titolo Donne Arte in Carcere, presentato dalla CGL di Bari in occasione della giornata internazionale della donna. Un patto generazionale per far crescere i livelli regionali occupazionali, ce ne parla il presidente nazionale del sindacato dei consulenti del lavoro. Una bozza normativa contro gli omicidi a seguito di stalking sarà presentata a Bari a luglio dalla CGL provinciale e dal forum Niente C.P. della Camera del Lavoro. Bene trovati su CGL Bari TV, il 19 giugno è la data di inizio delle lezioni del corso di scrittura creativa dal titolo Donne Arte in Carcere. Lo ricorderete, la CGL di Bari lo ha presentato nella casa circondariale del capoluogo l'8 marzo in occasione proprio della giornata internazionale della donna. Sentiamo. Il coordinamento donne della CGL di Bari in collaborazione con l'Università Popolare della Terza Età ha voluto rinnovare il messaggio che la detenzione non può e non deve privare la donna della sua dignità. Il progetto Donne e Arte in Carcere presentato dalla CGL provinciale nella casa circondariale del capoluogo lo scorso 8 marzo in occasione della giornata internazionale della donna nasce infatti come voglia di manifestare il senso di solidarietà e vicinanza nei confronti delle detenute per dir loro che dietro quelle sbarre c'è la possibilità attraverso la scrittura creativa di essere libere dalla tristezza, dalla delusione e dal pregiudizio. Il loro silenzio assordante sarà trasformato in versi e i versi in racconto accoglienza, sorrisi, solidarietà, scambi emozionali questi i sentimenti che hanno connaturato l'incontro di presentazione fra le detenute e il gruppo dei docenti che in modo del tutto volontario ha deciso di prestare la propria professionalità in un clima di comunanza reso possibile dal fondamentale lavoro degli agenti di polizia penitenziaria figure straordinarie il cui ruolo sarà determinante per creare un armonioso setting collaborativo e di partecipazione indispensabile per il buon esito del laboratorio di scrittura creativa che renderà queste donne libere dal rinascere dal loro passato per riappropriarsi del ruolo di figlie, madri, mogli, sorelle e lavoratrici raccontando i propri vissuti e rivocando ricordi ed esperienze con la libertà di narrare in modo creativo nonostante i deficit noti del penitenziario barese quali il sovraffollamento, gli spazi angusti l'impronta data dalla direzione tutta al femminile della casa circondariale sta dimostrando concretamente e questo progetto ne è un esempio tangibile che il carcere non è solo un luogo di detenzione ma soprattutto di riabilitazione in quest'ottica spiega Pino Gismundo segretario generale della CGL Bari ben si inserisce la determinazione del management del carcere di costruire alleanze esterne volte a ribadire un concetto fondamentale nessuna donna deve mai smettere di essere donna se finisce dietro le sbarre lo avete sentito dai nostri titoli un patto generazionale per far crescere i livelli occupazionali della regione Puglia un'idea di cui ci parla il presidente nazionale del sindacato dei consulenti del lavoro ascoltiamolo l'idea di un patto generazionale che possa far crescere i livelli occupazionali e regionali è una delle idee emerse dalla tavola rotonda difendere il lavoro o difendersi dal lavoro a proporre l'idea il presidente nazionale del sindacato dei consulenti del lavoro Francesco Longobardi il patto generazionale può avvenire o anzi deve avvenire tra il lavoratore di una certa età che sta vicino alla pensione a favore di un giovane cioè significa che un lavoratore che è vicino alla pensione con questo patto generazionale il datore di lavoro può dire a questo lavoratore che sta per avere la pensione di fare un part time a favore di un suo parente o di un giovane che si mette nel mercato del lavoro naturalmente per fare questo ci vogliono i fondi perché l'impresa non può pagare due stipendi e due contributi naturalmente allora ci sono i fondi e ci sono i protocolli d'intesa i protocolli d'intesa che può avvenire con la Camera del Commercio con la Regione Puglia con per esempio i fondi Italia con anche il Comune una proposta questa del patto generazionale che i soggetti presenti all'incontro hanno idealmente sottoscritto e attraverso questa sottoscrizione ideale hanno anche progettato una serie di incontri e iniziative dirette alla realizzazione delle idee emerse nel corso dell'iniziativa si è parlato anche di apprendistato formazione, flessibilità e partite IVA imprese e innovazione cooperazione, sinergie e fattori fondamentali in tempo di crisi si sono concluse a Noci le lezioni del corso di informatica over 50 organizzato dallo SPI CGL Bari siamo andati a sentire dai diretti interessati che tipo di esperienza hanno vissuto il servizio il computer non ha più segreti da questo momento in poi certamente non è che non ne ha più ce ne ha di parecchio ancora da certamente ciò che abbiamo fatto è da ripetere ma non perché vogliamo andare avanti ancora volete imparare ancora altre cose? perché questo è stato un corso di base abbiamo bisogno che questi corsi vadano avanti maggiore dimistichezza, pratica esattamente quanto è stato utile seguire questo corso di informatica? beh molto perché al tempo di oggi specialmente è una cosa che serve perché ti senti inferiore certe volte rispetto a tutti anche i bambini lo sanno usare un po' fuori dal mondo magari è vero poi a me serve anche perché c'è un cognato a Londra giusto per vederci perché ci vediamo proprio una volta ogni tanto quindi la tecnologia che accorcia le distanze è voglia come serve vedere tu immaginare una cosa però vedere realmente perché al telefono sai come stai come non stai però tu immagini non vedi mentre così vedi realmente avete imparato ad utilizzare Skype quindi la possibilità di vedervi chiamarvi sì è stato molto utile guarda ma è da rifare non per ripetermi però è da andare avanti nel programma per imparare ad usarlo meglio per chi non l'ha mai utilizzato è un po' difficile però la signora Nina ce l'ha reso facilissimo quindi insomma non ci saranno tante difficoltà nel mettere in pratica questo tipo di lezioni di insegnamenti teorici no non ci saranno difficoltà anzi sarebbe buono ampliare fare un corso più avanzato per poter usare meglio che cosa vorrebbe imparare ancora? io vorrei imparare vorrei fare un corso di inglese Nicola che cosa hai imparato da questo corso? è stata un'esperienza bellissima ma siamo stati insieme con tutti gli altri corsisti tranquilli con l'aiuto della nostra insegnante Nina Altamura e spero di poterlo fare un'altra volta questo corso si conclude questo corso di informatica per over 50 tanti complimenti che questi alunni hanno rivolto nei confronti dell'insegnante ci sono state delle difficoltà particolari o tutto sommato questa materia è di facile comprensione anche per gli over 50? sì non ci sono state difficoltà particolari le difficoltà incontrate sono sempre le stesse quelle incontrate nel corso di gravina di molfetta e riguarda il mouse il controllo del mouse avere il controllo del mouse per il resto non credo sia stato difficile e sono sicura che comunque riusciranno a mettere in pratica tutto anche senza la mia presenza senza il mio supporto un'altra bella tappa con persone che hanno superato gli anni 50 che si sentivano così lontani dal mondo informatico così lontani dal web i cui figli i cui nipoti tentavano di metterli da parte proprio per questa loro incapacità di connettersi con questa tecnologia e con questo modo di comunicare Pino Perna è entrato a far parte della segreteria dello SPI e uno degli organizzatori di questo corso che ha avuto davvero un successo strepitoso tanto che all'unanimità i corsisti vogliono ripeterlo ecco come è nata questa idea del sindacato dei pensionati della CGL l'idea è nata appunto per dare un po' di cultura ai nostri iscritti perché vedevamo che avevamo molte difficoltà quando collegavamo con le leghe che noi abbiamo nel territorio abbiamo cercato di dare un indirizzo email però avevamo difficoltà poi grazie alla nostra compagna Nino Altamura che si è prestata a fare questi corsi ecco è venuta qui l'idea è stato un progetto abbastanza valido perché abbiamo già fatto altri corsi a Molfetta, a Altamura, a Gravina quindi sentendo i commenti degli alunni gli over 50 penso che si ripeterà faremo un corso aggiornato rispetto a questo che abbiamo già fatto C'è da fare un ringraziamento? Senz'altro, devo ringraziare i dirigenti della scuola che ci hanno ospitato perché grazie a loro abbiamo potuto avere l'attrezzatura per poter fare questi corsi poi vi porto i saluti dalla segretaria nostra Antonelli Maria perché momentaneamente è fuori per lavoro non è potuta venire quindi vi ringrazio da parte sua ringrazio anche tutti i partecipanti dai commenti che avete fatto visto che sono stati tutti positivi cercheremo di farvi un corso più avanzato quindi la nostra vota è quella di aiutare gli anziani perché è il nostro sindacato noi tuteliamo i diritti anche nell'aneca e anche nell'allocultura non solo per quanto riguarda il mondo sanitario e sindacale e concludiamo parlando di stalking una bozza normativa contro gli omicidi a seguito di stalking sarà presentata a Bari il prossimo luglio dalla CGL provinciale dal forum anti-stalking e anti-mobbing Niente Cifu Rossella Brescia sarà la testimonia della campagna contro omicidi e violenza la CGL di Bari in prima linea contro il femminicidio attraverso Niente Cifu il forum attivato a novembre su nientecifu.cglbari.it in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne raccoglie l'appello degli scrittori Lara Cardella e Niki Persico rilanciando e promuovendo una proposta di legge al fine di intervenire tempestivamente contro gli omicidi a seguito di stalking e fenomeni persecutori la proposta molto semplice ed efficace giunge in un periodo in cui gli omicidi e gli episodi di violenza contro le donne appaiono inarrestabili data la frequenza impressionante con cui si verificano la proposta di legge contro gli omicidi sarà presentata la bozza normativa sarà presentata a Bari a luglio dalla Cigelle provinciale dal forum anti-stalking e anti-mobbing nientecifu della Camera del Lavoro Rossella Brescia sarà la testimonial della campagna contro omicidi e violenze ideata dagli scrittori Lara Cardella e Niki Persico all'iniziativa parteciperà oltre al segretario generale della Cigelle di Bari Pino Gesmundo anche Giovanna Ferrari madre di Giulia Gagliotto barbaramente uccisa nel 2009 insieme a loro anche i due scrittori Lara Cardella l'autrice del noto romanzo Volevo i pantaloni recentemente in libreria con Io non farò rumore e Niki Persico autore di Spaghetti Paradiso entrambi focalizzati sul tema delle violenze dello stalking con punti di vista differenti non bisogna perdere tempo interventi subitane e atti concreti ci darebbero la possibilità di salvare vite umane afferma Pino Gesmundo segretario generale CGL Bari la bozza normativa integrando le leggi già esistenti fornirebbe una rete reale per proteggere concretamente la vittima e per fornire alle forze dell'ordine magistrati strumenti efficaci per garantire la sicurezza nei casi più gravi il nostro è un percorso iniziato dando vita ad un forum di mutuo aiuto e soccorso che sta aiutando vittime e familiari proseguiamo il nostro lavoro di contrasto alla piaga del femminicidio che mieta sempre più vittime attraverso questa iniziativa nella quale presentiamo un ennesimo strumento concreto con l'obiettivo di porre fine a queste stragi ingiustificate ed è tutto grazie per essere stati con noi continuate a seguirci su Cigelle Bari web tv ma anche sul nostro sito internet www.cgelebari.it vi ricordo che il nostro settimanale di approfondimento venonda anche su Delta TV canale 78 del digitale terrestre Puglia e Basilicata tutte le mattine intorno alle 8 e replica alle 24 grazie per l'ascolto arrivederci a Grazie a tutti